Dici domani ne arriva bene, vabbè intanto aprimo se sto Greats of the game Francia, ATT Davide Treseghe Trovato tre minuti fa, andiamo Ah dai, grazie per i sei puzzone, bentornato Anto, grazie per i trenta, tu è bentornato E che sto qui sta, buono Che ce fa monoso Ogni volta devi fare la VL monoteam, cacazzo e cazzo Per le 12 win tu mi hai dato Gabriel che è un sceno E ora mi hai dato Gabriel, ho capito Vabbè ci sta, dai, tanto è Al 3 di luglio comunque, sono d'accordo Fanno bene, fanno No, ci mancherebbe E il portiere non lo può notare, anzi che c'ho Allison nel club Che è un mondo estinto Sul mercato quel Gomez è a scarto, è overall È una busta Almeno Enzo era una buona carta Ah Campos Buono Campos Vabbè, la sfida costa un cazzo Però manco che non mettevi da un cazzo A sto punto dell'anno 120.000 Oddio Non è manco Sì, vabbè 120.000 perché dimetti i tozze di farmi Che scaroba un po' Ma è una presa No, vabbè Ma così è una presa per culo Cioè ma pure Gabriel era una presa per culo, eh Ma pure il fatto che a 7 win Durante il percorso Potresti regalarlo Un giocatore Brasiliano Da aggiungere in squadra Tozzariare a 55k Eh, te credo Sei giorni che carte su foot Le ho tutte cose scritte a not found Eh, dovresti disinstallare Installare il gioco Vabbè, ma questo è lui Sciabbi Alonso Tresi Chiesa Quelli Campo Quelli che hanno tutti nell'account Apri tu pacchi toda Buono Ma insomma C'è fatto che toda così Il not found si è fixa così purtroppo La pillola rossa Che faceva la pillola rossa La pizza su Isaac Me sa de no Però non era buona Quella buona E' quella Mi pare il forget me now Zanetti A dire Non è manco male Questa invece è accorda Boh Ah Beccato un paio di torte E berca cagazzi Quella rossa Me sa che non era tanto per Non mi ricordo Adore Adore Vede com'è fatto No ma ormai è ingiocabile Cioè senza meta In weekend league Te bastonano In tutti In tutti i sars In tutti i modi Bella ragazzi Vi ricordo sempre Che se siete alla ricerca Di crediti Per gli AFC24 Scontati Veloci E sicuri Vi lascio il link In descrizione Con il codice sconto Yoshi Quindi mi raccomando Fatene ovviamente Buon uso E in maniera Intelligente Io vi do un bacione E ciao Undap Oh Now un po' Negozio Vai Timo Werner C'è pure Furich Quello là Che era uscito Musiala pure Punta Tanta roba Io questo Ci ho fatto A WL Te posso dire Carino Cioè nel senso Mi è piaciuto Però ammette Come se come premio Non c'è senso Cioè sincero Full Krug Ok Io ho tratto Cannavaro Simpatico pure Cannavaro Ma ha rotto abbastanza Al culo Sta WL Beh andiamo a vedere Che cazzo mi si è aperto Ma leva Leva un po' Sta roba Vai Oh Buono Zanetti Magari a me Non te lo posso dire Qui chi puoi mettere Punta tedesca Io ho quasi Due milioni Di gol Però Io Però Ma si Due colla che Nuovo piano L'altro playstyle Che sto A voglia Ma questo Nuovo piano Ah Più uno sia di gioco Più uno Sì Danno il playstyle Danno Grazie P35 Bentornata A me che mi ha dato Un coglione Ah è vero Mi ha dato Treseghe doppione Non scambiabile Che mo Non so neanche Do buttà Perché mo Butto dentro 89 Non so Faccio i picchi E aggiornamenti Non so Pavo dove metterlo Italia ADP Del Piero Con du playstyle Oro Buono Certo c'è Quello Con il body De merda Del Piero è buono Il body Del baby Bello Che sciavisime Un serata fa Infatti Questo Lo provavo Ieri Ha fino Optato Per pirlo Però ti dirò Andrebbe Andrebbe Visto Una roba Così brutta In vita mia Tutte e tre Sono scene Eccolo Campos Sì Vabbè Vabbè Provato Ho provato Bella carta Certo Ho perso 200k Quando ho comprato Però per quello Per il resto Mi è piaciuto Mi è piaciuto Qua si muove bene Bel passaggio Gioco d'anticipo È ottimo Il tecnico Il tecnico Io potrò Non lo mette Però Bel giocatore Ma questo marchio Mi è piaciuto Ti incosta Un cazzo Va Ronaldo Sì sì Ronaldo L'ho venduto L'ho venduto L'ho venduto Ieri Appena ho finito Quello Venduto a 2.9 Pagato 300 Tipo Cosa forse 2.28 Portogallo Dici Ma so Sempre gli stessi Manca di che Sto sbaglio Danno Una carta Un po' meglio Una robetta Boh che rovo Spero Cioè onesto Io pure ho finito Praticamente Domani prendi 700 De exp Del Delle rivals Questa bella carta Onesto Tra l'altro vierà Forte pure vierà No ma anche sai Magari Per farmi trovare Roba nei pacchi Che non sia Icone Che non si possono Puyol Er parucca Eccelo Ma poi è una pippa Pure Cioè Fa cagare pure Sta carta Perché non Non si muove Non Sta impalato Mamma mia Osceno Sto Io vado 3 2 1 International Stas Mamma mia Tre settimane Di sta cagata Madre Ah c'è Le colla Tom grazie Ben tornato Dopo io Sto Tocca Fa Sto Dopo Sto Puyol Tocca Fare Sub Però 95 Er base Magari Se gira Arriva Una hit Arriva Il Nigno Torres Boh Cioè Questi Non mi fanno Key shape Che è il migliore Evento Della storia Di Ultimate Team Per Per Mettere Non la pio bene Tanto io Una volta che parto Poi Agosto Sti cazzi Però Agosto So sincero Dovrei partire Cerco di rubarmi Una settimana In vacanza Vediamo un attimo Però Boh Agosto Veramente brutto Sarà tipo Pokemon stream Una weekend league La farò Perché la farò Perché Almeno passa il tempo E passa le giornate Però diventiamo matti Ah è vero Ha nuppato Selic Ha nuppato Ieri ho fatto 16 Sul Sull'account Fulleroma Neanche male Comunque Quello che Vi pare Però il fatto Che abbiano allungato La WL È una mezza bomba Onesto Perché lunedì E martedì Me li piava la WL E sto lì così Venerdì Tanto c'è evento Sabato Domenica Stream Due ore Diciamo che Non vuoi Te la Traccheggi bene Riesci pure A fare qualcosa Di interessante Eh Quello è bello Te passo Di acile Col seno È doppione Carino Ti dirò 200k Buono 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 Cioè te le mettono lì Che per me è pure peggio Anziché meglio Però Tipo domani mi facevi Alle 18 Un bel quarto De finale proprio Però buono Ma non penso Sì faremo Può essere che mi rigioco Un po' tutti Partiamo tipo da giallo Quelli così Belli Rosso fuoco Romantico E se li giocamo Un po' in scaletta Toccherebbe trovare però qualcosa Capito Qualche acrom Che non è che sia troppo difficile Però un po' più interessante Secondo me Un po' più variegata Quella ci potrebbe sta Sbagniamo pure lui Sbagniamo Ciao Luppi Ben tornato Che c'è con nato Ma fa vedere Che c'è Vedendo Antopia 16 l'anno Tipo Oh not found Proprio lei Oddio C'è un cartone Della madonna Che è Ma che poi Scusa Ma pure queste Sono live Sulla parte maschile No E allora Perché non sono riusciti A fare un team Femminile Sulle prestazioni Quella maschile C'è Le hero Si Però i calciatrici Che giocano No Pure Dovkick E' un'altra Trappola E' un'altra Trappola Che devi evitare Sinceramente Che veramente Pure quello E' un pericolo Vabbè Budimir pure Vabbè M'ho trovato A Gessbler Te dirò Buona cavessa La proviamo Ma chi spigne Chi Mi sa che Se spingono a vicenda Cor telecomando Vabbè Questa ma Collo Guarda che carta Certo Non c'è un Pleister Difensivo Quanto costa? No Ben spesi Rispetto a Anche perché Poi il discorso Prende uno Prende Ma mi manda De Selle Mi ha dato Usa count Hanno messo Giuselu Nelle leggende Del Real Madrid Ah Vabbè Con qua La doppietta C'è sta Però No Ma cosa Tedesco Ne ci sa Gli europei E' Place of birth Stuttgart Germany Prende uno Prende uno Prende uno